droga un arresto a gela sequestrati dai poliziotti due panetti di hashish e un bilancino di precisione ladri in azione allo scientifico di canicattì portati via sei computer e una cassa acustica calta nissetta fiera di san michele all'ex foro boario l'opinione dei cittadini festa di san pio da pietrelcina sabato san domenico eccellenza la nissa torna al palmintelli domani il recupero con l'oratorio san ciro e giorgio e con l'accusa di essere un presunto pusher che un disoccupato gelese di 30 anni è stato arrestato e collocato ai domiciliari dai poliziotti del commissariato della città del golfo gli investigatori sono intervenuti nel corso di un'attività di controllo antidroga durante la quale hanno perquisito l'abitazione dell'uomo che ha alle spalle alcuni precedenti gli agenti nel corso della perquisizione in casa dell'indagato hanno trovato due panetti di hashish per complessivi 194 grammi di stupefacente ad aggravare la situazione anche il fatto che l'uomo avesse in caso un bilancino di precisione strumento solitamente utilizzato per preparare le dosi da smerciare naturalmente stupefacente e bilancino sono stati sequestrati dagli agenti a quel punto per il trentenne indagato è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dai magistrati della procura di gela misura che peraltro già gravava sul trentenne in quanto sta scontando agli arresti in casa sua una condanna un anno e quattro mesi per un caso di falsa testimonianza adesso la nuova accusa di spaccio da cui dovrà difendersi colpo notturno al liceo scientifico leonardo sciascia di canicattì da dove sono stati rubati sei computer portatili e una cassa acustica un furto eseguito probabilmente a più mani quello perpetrato all'interno dell'istituto scolastico i ladri secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di canicattì hanno forzato una delle porte secondarie della scuola per introdursi all'interno obiettivo la ricerca di materiale di valore in questo senso le attrezzature moderne sempre più presenti e diffuse nelle scuole rappresentano un'occasione ghiotta per i malviventi che possono poi rivendere i dispositivi elettronici o i loro componenti il furto è stato scoperto al momento dell'apertura dell'istituto ed è stato il dirigente scolastico a segnalare l'accaduto alla stazione dei militari dell'arma i quali hanno subito avviato un'indagine a carico di ignoti sotto il coordinamento della procura di agrigento ancora da quantificare il danno subito dal liceo sciascia visto che le attrezzature non sono coperte da polizza assicurativa da capire se nelle vicinanze della scuola ci siano telecamere di sorveglianza con sistema di registrazione e che quindi potrebbero avere filmato gli autori del furto da lunedì 26 settembre a domenica 2 ottobre all'ex foro boario si terrà la fiera di san michele dove insieme alle bancarelle verranno incorporate anche le giostre dunque dopo varie verifiche si è scelto questo sito proponendo di svolgere in un'unica area tutta la fiera dopo la scelta che lascia per le bancarelle la zona del viale regina margherita e del pian del lago per le giostre abbiamo chiesto i cittadini nisseni cosa ne pensano di questo cambiamento ed è la scelta dell'ex foro boario chiedendo loro di raccontarci dove il collocamento migliore e ricordi che hanno dei luoghi dove si è svolta la fiera di san michele negli anni passati sicuramente in zone più centrali della città quali potevano essere o via rochester oppure via la regina margherita capito che crea problemi alla viabilità cittadina però sicuramente era di maggiore fruibilità che io mi ricordi la collocazione migliore è al viale regina margherita in quanto si sente più a casa uno avendo questa fiera in quella zona per me il foro boario è molto dispersiva molto lontano e molte persone non non andranno sicuramente perché è molto lontano e quindi sarà più che altro l'occasione per i giovani andare la in quella fiera ma io sono nostalgico il ricordo più bello che ora quella via rochester certo i tempi sono cambiati e magari per motivi logistici è stato scelto quest'altro sito che però è un po fuori mano fuori sede e altra locazione era quella in viale regina margherita vicina al cuore della città comunque sempre una gioia la fiera di san michele che porta insomma molte persone non solo da caltanissetta ma anche dai comuni vicini a riportare persone in città anche quest'anno la caritas di caltanissetta si prepara ad accogliere la solidarietà dei nisseni che daranno il proprio contributo per le famiglie in difficoltà durante la raccolta alimentare del santo patrono sabato 24 settembre infatti davanti ai supermercati cittadini che hanno abbracciato l'iniziativa ci saranno alcuni volontari che mettono a disposizione del prossimo il proprio tempo e impegno e che saranno presenti per raccogliere prodotti che i cittadini doneranno come da qualche anno questa parte in prossimità della solennità di san michele la carita sedio cesano organizza una raccolta alimentare per tutti i supermercati della città grazie al contributo di tanti volontari che vengono dalle diverse comunità parrocchiali che cerchiamo sempre di coinvolgere si riesce a portare avanti questa iniziativa che permette quindi di raccogliere generi alimentari di prima necessità che poi vengono portati direttamente presso i nostri empori in via de gasperi per utilizzarli nel servizio che l'emporio alimentare svolge ormai da diversi anni quello del sostegno e del supporto a tante famiglie della nostra cittadina nissena prosegue intanto l'attività quotidiana della caritas l'attività della caritas che si portano avanti da in questi mesi riguardano innanzitutto sempre il fronte ucraina quindi continuiamo sempre la nostra accoglienza il nostro supporto il nostro sostegno alle famiglie che sono ospitate a caltanissetta presso alcuni istituti religiosi presso alcune parrocchie e presso anche alcune famiglie e poi continuano l'attività ordinaria della caritas il centro di ascolto le attività dell'emporio tanti progetti in cantiere che stiamo cercando di concludere per presentarli poi durante l'anno al nostro vescovo diocesano nonché anche a caritas italiana in attesa anche di avere le dovute autorizzazioni per iniziarli diciamo le idee non mancano mai le idee non mancano la caritas è sempre un cantiere aperto la parrocchia di san domenico si prepara a celebrare la festa di san pio da pietralcina sabato 24 settembre dopo il santo rosario delle 18 infatti ci sarà la celebrazione della santa messa alle 18 e 30 con la consegna alla comunità parrocchiale di oggetti e lettere appartenenti al santo e che sono state donate alla parrocchia nei mesi scorsi tra questi un guante una sciarpa di san pio da pietralcina e un grande dono che abbiamo ricevuto è un nisseno era intimo amico di padre pio da pietralcina è venuto a mancare a gennaio e gli eredi ci hanno fatto questo prezioso dono di alcuni oggetti appartenenti a padre pio giorno 24 sabato 24 durante la messa delle 18 e 30 queste reliquie verranno consegnate ufficialmente alla parrocchia alla comunità e quindi potranno anche essere motivo di preghiera motivo di conoscenza anche di questa bella figura di del santo da tanti amato e sarà anche un momento per riprendere insieme il nostro cammino nella via della santità si tratta di alcuni oggetti appartenenti al santo la sciarpa il guanto delle lettere autografe e poi degli altri oggetti personali e ci sono anche delle crosticine delle mani sappiamo che padre pio aveva le stimmate e quindi sono state raccolte e conservate anche queste 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 croste messe in un reliquiario quindi questi si tratta sia di oggetti sia da parti del corpo di padre pio che sono stati donati alla parrocchia e resteranno qui in questa parrocchia il palmintelli torna a ospitare una partita della nissa vista l'indisponibilità dello stadio marco tomaselli che si spera torni al più presto fruibile con il nuovo manto erboso sintetico la squadra di alessandro settineri giocherà il recupero della seconda giornata di campionato nel campo sportivo diviale della regione un impianto costruito negli anni trenta del secolo scorso al quale gli sportivi nisseni sono profondamente legati anche se sono sempre più lontani i fasti di un tempo quando la nissa militava in serie c e si confrontava con squadre blasonate regina juvestabbia nocerina cavese e frosinone su tutte oggi la realtà si chiama eccellenza e il presente propone nissa oratorio sanciro e giorgio di marineo in programma domani nel campo sportivo di viale della regione fischio d'inizio alle ore 16 i biancoscudati inseguono il primo successo dopo due sconfitte contro casteldaccia e acragas anche l'oratorio sanciro e giorgio che punta la salvezza non attraversa un buon momento domenica scorsa la formazione biancorossa è stata battuta sonoramente in casa dal casteldaccia 1 0 a 3 con poche attenuanti sembrano esserci tutti i presupposti per assistere a una partita tirata e combattuta in casa nissa c'è voglia di riscatto e una vittoria al di là dei tre punti servirebbe soprattutto per tirare su il morale di giocatori e tifosi amici trevi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che nel complesso sarà bella in italia alta pressione sul mediterraneo e sul nostro paese correnti fredde però in arrivo dal nord europa continuano a lambire il nostro paese controlliamo la nuvolosità attesa sull'italia ben poche nubi qualche annuvolamento al mattino all'estremo sud per esso insomma come vedete ci la caviamo in effetti anche come precipitazioni nulla da segnalare non sono attese piogge significative questo martedì da nessuna parte quindi insomma in definitiva ci attende un martedì di sole sole bene o male in tutta italia qualche annuvolamento al sud ecco magari al mattino qualche breve piovasco potrà interessare la puglia garganica unica zona per il resto ripeto tempo bello temperature diurne fino a 25 26 gradi quindi di giorno si sta anche abbastanza bene però di nota primo mattino temperature contenute ce ne siamo accorti sotto i 15 gradi in alcune zone vicine anche i 10 per tutti i tagli comunque sulle vostre località consultate l'app di trebi meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno romano corso vittorio emanuele servizio notturno la china via fraggia ratana